Oggi abbiamo veramente preso dei provvedimenti importanti e questi sono motivati dalla necessità di dare una risposta alle conseguenze sul nostro Paese della guerra in Ucraina. Interveniamo con questo provvedimento per aiutare cittadini e imprese a sostenere i rincari dell'energia, con particolare attenzione alle famiglie più bisognose e alle filiere produttive più esposte. Miglioriamo anche alcuni presidi a tutela del nostro sistema imprenditoriale e rafforziamo, e questo non ha a che vedere con l'energia, il nostro sistema di accoglienza per gestire gli afflussi di rifugiati dall'Ucraina che stanno aumentando giornalmente e ci aspettiamo che aumentino ancora molto nelle prossime settimane. In totale le misure ammontano a 4,4 miliardi di euro che si aggiungono ai circa 16 miliardi che abbiamo speso, se non sbaglio, negli ultimi sei mesi. Qui parlo sotto il controllo del Ministro Franco che mi corregge se sono sei mesi oppure un po' di più. Dunque, a differenza degli scorsi provvedimenti, gran parte degli interventi di oggi non sono finanziati dal bilancio pubblico, ma dalle aziende del comparto energetico. Tassiamo una parte degli straordinari profitti che i produttori stanno facendo grazie all'aumento dei costi delle materie prime. E ridistribuiamo questo denaro alle imprese e alle famiglie che si trovano ovviamente in grande difficoltà.